auto francia promuove l'operazione quattro ruote per quattro zampe l'autorizzato fiat auto francia di torino contribuisce alla produzione televisiva di video adozioni quattro zampe in tv la trasmissione che da nove anni presenta i cani in adozione dai canini del piemonte auto francia autorizzato fiat un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia che hanno diritto ad un futuro migliore grazie di cuore fiat auto francia bentornati a tutti voi all'arca di piera franca ciao ben tornata ciao grazie a te come ogni medaglia anche l'arca di piera un rovescio molto piacevole oggi partiamo dal gattile sì il gattile dell'arca di piera come vedi ci sono delle meraviglie di gatti abbiamo quasi 100 gatti qui in gattile quindi sono tutti gatti che cercano un'adozione una famiglia chiaramente un po sono stati lasciati da dei proprietari che non potevano più tenerli altri sono stati trovati in giro perché il gatto è più facile trovarlo in giro specialmente sulle colonie felline le mamme che non sono sterilizzate poi fanno i cuccioli e cose varie comunque come vedi c'è una bella razza una piacevole sorpresa perché non tutti pensano che anche i gatti hanno bisogno di un'adozione perché liberi soprattutto i gatti dopo aver trascorso una parte della loro vita in appartamento non se la potrebbero cavare no assolutamente devono essere comunque seguiti come vedi comunque qua i nostri gattili sono abbastanza ampi hanno il giardinetto quindi sono gatti che comunque hanno una certa libertà poi per carità ci sono anche dei gatti che vivono liberi si può dire nel rifugio no però quelli sono proprio dei non dico mezzi delinquenti ma sono dei gatti eccezionali che non gli devi togliere la libertà due modi di intendere i nostri amici a quattro zampe qualcuno scodinzola vedi il cane e qualcuno filosofeggia vedi il gatto il gatto il gatto è un animale particolare c'è gente che ama solo i cani c'è gente che ama solo i gatti però il gatto ha un carattere indipendente è un carattere veramente è un felino e qui però ti dà anche tanto bene potrebbe essere un primo passaggio in certi casi perché tenere un gatto in appartamento diciamo la verità è più semplice che tenere un cane certo certo ma ti dà meno problemi perché comunque non devi portare lo spasso quattro volte al giorno comunque lui come ti dico indipendente se stai via magari tutto il giorno basta che abbia l'acqua le crocchette la sua cassetta poi chiaramente ben contento di stare col proprietario perché anche lui è un animale effettuoso certo dunque hai preparato qualche esempio sì ti volevamo far vedere questa gattina bene allora partiamo la sorpresa è piacevole possiamo dire occhi magnetici quelli di mio non solo guarda anche solo il pelo tutto tutto l'insieme magneti coserei dire no mio a 12 anni è stata lasciata da una famiglia perché non poteva più tenerla ecco è buona con le persone decisamente buona l'unica cosa che noi cerchiamo possibilmente una casa senza altri gatti perché vedi che lei comunque si isola un tantino non è come gli altri gatti che stanno uno vicino all'altro no però con le persone è molto buona a 12 anni chiaramente però i gatti non hanno problemi arrivano anche fino a 21 anni quindi ha tutto una vita davanti ed ora dal locale dell'infermeria perché la larga li cura anche maribel ci presenta attila 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 10 anni è stato trovato per strada quindi diciamo si non si presume che sia un randagino perché come vedete è un gatto molto fettuoso con le persone quindi l'unica cosa che ha e lo diciamo apertamente è un'insufficienza renale quindi comunque lo stiamo curando per questo però è un è un gatto amorevole nel vero senso della parola adottare un gatto significa anche dare una mano al gattile a questo punto e risolvere alcuni problemi certo tutti quei tutti gatti che sono allora parte che appena entrano i gatti entrano subito in infermeria perché devono essere controllati controllati dagli antiparassitari o fare tutto quello che ci deve fare poi su certi gatti chiaramente si fermano un tantino di più perché hanno bisogno di cure particolari che noi diamo decisamente ad ogni gatto è anche una garanzia questa no? certo senz'altro noi infatti apertamente diciamo che è un'insufficienza renale non è che facciamo passare un gatto sano per un gatto che ha qualche problema però una volta che ha le sue medicine il gatto sta bene non c'è problema e come vedete è un gatto molto ma molto dolce con le persone è un attila buono sì è un attila molto buono forse dovevamo cambiare di nome concludiamo possiamo dire in bellezza questa parentesi breve parentesi dedicata al gattile dell'arca di piera con il gatto rosso miro 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 oltretutto è pure giovane perché è un gatto che ha due anni quindi giovanissimo ha una leucemia felina quindi è malato per forza di cose però comunque se non dovrebbero esserci problemi perché comunque da noi vengono comunque curati e tutto anche questo è un gatto che è tenuto in casa proprio bisogno comunque di trovare casa riesce a vivere tranquillamente per un mucchio di anni piccola provocazione spesso con i cani ci chiedono andranno d'accordo o andrà d'accordo con i gatti parliamo di miro andrà d'accordo con un cane secondo te allora bisogna provare noi chiediamo sempre di fare una prova guarda io ti posso raccontare di un cane un cane molto grosso che è stato adottato da noi e il signore aveva un cane una cane un cane femmina un gatto e aveva un'oca a certo punto ci ha mandato il filmato dove si vedeva che andavano spasso nei boschi allora i due cani il gatto dietro al gatto l'oca e quindi secondo me il gatto poi ha possibilità non fatevi scappare miro bellissimo no no miro bellissimo e come vedi con mirabel si fa coccolare alla grande quindi sono coccoloni bene bene lasciamo la città dei gatti all'interno dell'arca venitela a visitare grandi sorprese più di 100 gatti di 100 gatti e senz'altro troveranno il gatto ne mancano 97 da vedere e il gatto adatto c'è sentrato c'è senz'altro ecco vedi se ne è aggiunto un'altra si è aggiunto un'altra guarda subito poi comunque tutte le femmine sono tutte sterilizzate anche i gatti sono tutti sterilizzati quindi uno va tranquillo su quello che viene adottato da noi bene ripromettiamo e promettiamo all'arca che in ogni trasmissione dedicata ai bau ci saranno anche dei miau certo senz'altro senz'altro aspettiamo tutti con tanto piacere passiamo ai bau dopo alcuni esempi dal gattile alcuni esempi dal canile perché hai scelto Dakota come prima come entrai perché comunque a parte che è una bella ragazza secondo me è un cane veramente bello è un cane molto vivace è un cane molto possente e ha bisogno di trovare casa perché in canile starà bene però non è l'ideale per lei quindi tra l'altro è già sterilizzata, microcippata, vaccinata, è tutta a posto compie due anni a maggio quindi anche bella giovane è un cane che con i maschi, con le femmine no, con i maschi bisogna provarli perché non tutti, lei non le gradisce tutti quindi comunque con le dovute prove si può eventualmente provare anche con un maschio e al guinzaglio di Sara la sua volontaria di riferimento esatto sì la sua volontaria di riferimento che rapporta spasso tutte le mattine questo è lo schema che noi andremo a proporre, un'adozione con una giovane chiaramente dinamica scarpe da ginnastica, voglia di camminare e voglia di giocare con Dakota anche perché la fa correre abbastanza di Uzi Franca mi dicevi conosci la storia e ci sono molti molti buoni motivi perché venga adottata perché altrimenti sarebbe condannata al canile sì certo, Uzi ha quasi 4 anni, è un American, è un cane diciamo particolare nel senso è la razza che è particolare bisogna comunque cercare un adottante che sia esperto in questo tipo di cani, che sappia tenerla perché lei con le persone è buona per carità però comunque deve essere figlia unica non devono esserci bambini, possibilmente non devono esserci gatti e bisogna saperla tenere nella maniera corretta come dico con le persone è buona, è stata lasciata comunque con grande dispiacere dei proprietari però avendo altri due cani della stessa razza a un certo punto facevano baruffa e quindi piuttosto che succedesse qualcosa di irreparabile hanno preferito che noi cercassimo una famiglia adeguata e come dico deve essere una persona che conosce molto bene la razza e che la capisca e che la capisca, certo che la capisca ritroviamo Deborah, la nostra volontaria che ci ha presentato numerose trasmissioni del passato che ci ha portato a Pachito Pachito, sì sì, lei ha detto Pachito, tu Pachi Pachi, diciamo ufficialmente Pachi, per gli amici è Pachito un incrocio è un incrocio di molto, di tutto di tutto, di tutto bisognerebbe fare il DNA, scoprire tutti i suoi antenati per capire effettivamente da dove arriva comunque Pachi ha quasi due anni è un canietto che ha bisogno di molto ma molto affetto e attenzione per quasi dieci mesi, per quasi un anno è stato in un balcone a Torino quindi non conosceva niente, non conosceva la pioggia, non conosceva le persone non conosceva i rumori, qualsiasi rumore si spaventava quindi ha bisogno comunque anche di un giardino cioè non è un cane da tenere in appartamento deve essere comunque figlio unico quindi non con altri cani e come dico, chi ha piacere di avere Pachi all'inizio deve dargli molta attenzione e farsi quattro chiacchiere con Deborah sì, senz'altro che gli spiega com'è Pachito dopo una vita difficile Calos ha trovato la tranquillità, la quiete, amici, amiche proprio qui sull'arca però la sua strada è appena iniziata sì, diciamo che Calos verso l'adduzione ovvio, Calos come potete vedere è molto giovane ha appena compiuto un anno da poco è stato vittima di maltrattamenti ed è stato privato di conoscere cos'è una casa e cos'è l'amore perché ha vissuto i primi mesi in un pollaio e da lì poi è arrivato in canile subito dopo è un cagnolino molto carino come si può vedere è dolce, è molto molto esuberante però chi ha un anno non è esuberante insomma sì, chi è giovane non è esuberante un attimo di pazienza e Calos potrà diventare uno dei componenti di una bella famiglia sì, assolutamente sì e concludiamo con una bellissima coppia di amiche Bella Bella e Rita e Rita io ho detto prima come battuta la coppia non si scoppia allora, loro allora, senti una cosa sarebbe l'ideale trovare una famiglia che le prende tutte e due Rita ha che è questa questa bella nerofocata ha cinque anni Bella ne ha sette, quasi otto sono sempre state insieme diciamo il motivo per cui sono qua è perché la mamma umana è stata ricoverata in un RSA quindi loro sono rimaste orfane quindi l'hanno portate da noi per cercargli una famiglia come dico l'ideale sarebbe assieme però siamo anche disponibili a darle separate io le presenterei come un antidoto alla solitudine perché sicuramente la nostra amica che è ricoverata ha trovato in queste due queste due quattro zampe una montagna di felicità una montagna di amore proprio infatti penso che questa signora ha detto so che voi cercherete la famiglia adeguata quindi col cuore pieno di lacrime le ha dovute lasciare perché chiaramente i certi non poteva portarle con lei comunque diciamo che ha passato otto anni con loro specialmente la più vecchierella che è bella poi si è presa Rita e comunque sono stati sempre tutti e tre assieme bene e quale migliore epilogo se non l'adozione anche per tutti i pit che tu ami e presenti e tutti gli altri cani bianconeri tutti tutti bene ringraziamo le volontarie che come Deborah lavorano all'interno del rifugio e devo dire alla prossima sì alla prossima ci vediamo buona Pasqua a tutti bene grazie buona adozione a tutti e rivediamo comunque i nostri amici buona Pasqua a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.